Allora, cos'è successo? C'è una grossa inchiesta del Guardian che ha fatto emergere i cosiddetti Uber Files, ovvero tutta una serie di documenti, conversazioni e pratiche dettagliate che mostrerebbero come Uber, l'azienda di noleggio auto con autista, specie sotto la guida del suo vecchio CEO, che era un personaggione, abbia messo in campo una serie di politiche molto spregiudicate al fine di accapararsi un pezzo di mercato che non solo in Italia, ma ovunque, cioè quello dei tassisti, è molto complicato da penetrare. E infatti in Italia non ci sono e non nemmeno riusciti. Ecco, ora parliamo di questo, ma prima di spiegarvi nel dettaglio di cosa si tratta, commentino, commentino. Allora, se, e dico se, le cose che sto per dirvi dovessero rappresentare un comportamento scorretto da parte di Uber e di Travis Kalanick, il vecchio CEO, di questa cosa ne prenderemo atto benissimo e ne possiamo anche parlare, ma con un disclaimer che è tutto italiano, ovvero che Uber può anche essere satana per quanto mi riguarda, può essere guidata da diavoli. E va benissimo, non me ne frega niente. Ma questo in alcun modo cancella le mancanze del servizio taxi nel nostro paese, che è un servizio arcaico, fermo come minimo agli anni 50, che sembra impossibile da riformare. Questo Uber o non Uber? Che Uber sia buona o Uber sia il mostro? Non cambia niente. Sono settimane che i tassisti in Italia si lamentano e protestano e saprete bene che la settimana scorsa hanno indetto uno sciopero di 48 ore. Perché? Perché in Senato è stato approvato il cosiddetto DDL concorrenza, in discussione ora alla Camera, e in questo disegno di legge c'è scritto, all'articolo 10, che il Parlamento delega al Governo il potere di modernizzare il settore del trasporto pubblico non di linea, che quindi significa taxi e noleggio con conducente. E benché non ci sia scritto molto di più, c'è giusto un elenco puntato di cose che il Governo dovrebbe impegnarsi a fare, come promuovere la concorrenza, ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei conducenti e migliorare il servizio sul profilo tecnologico, i tassisti lottano per mantenere lo status quo, per cui accusano il Governo di voler distruggere il loro settore. Ora, qual è il problema? Il problema è che in questo Paese ci sono un numero limitato di licenze che i tassisti non vogliono che venga aumentato, perché altrimenti la loro licenza perderebbe di valore, un po' come un proprietario di casa non vuole che gli costruiscano altre case vicino in modo da poter eventualmente vendere la sua a un prezzo maggiorato. E non c'è possibilità di concorrenza, perché non è un libero mercato, se domani vuoi aprirti un bar puoi farlo, e se sei bravo e fortunato prosperi, ma se vuoi fare il tassista non puoi, a meno che qualcuno appunto non ti ceda il posto. Ed è così da sempre, se il Governo Prodi nel 2006, quindi quasi vent'anni fa, con Bersani e lo sviluppo economico, che liberalizzò molti settori, se anche il Governo Monti nel 2012 provarono anche solo ad aumentare il numero delle licenze. Ma non ci riuscirono, proprio perché la categoria in source, e in generale, anche se in Italia i tassisti si stima siano appena 40.000, quindi meno di qualsiasi categoria possa venire in mente così su due piedi, è molto cara agli ambienti politici, locali e nazionali. Ora, il DDL concorrenza deve passare il vaglio della camera, e se passerà potremo vedere finalmente una modernizzazione del settore. Perché, ve lo dico, io vorrei che andassimo in quella direzione lì, che mi sembra molto sensata. Specie nelle più grandi città, l'uso dell'automobile va disincentivato a fronte di altre soluzioni, ma perché queste siano efficienti, deve migliorare il sistema tecnologico, deve migliorare il numero di veicoli in circolazione, si devono abbattere i costi, perché, per come sono ora, è evidente che il servizio non possa essere particolarmente popolare. Questo significa anche diversificare, quindi, perché è evidente che differenti persone vorranno differenti servizi con differenti costi. Quindi Uber? Quindi anche Uber, evidentemente, trovando un equilibrio tra la modernizzazione del servizio e le condizioni dei lavoratori, perché voi lo sapete come la penso. Non è che l'avanzamento tecnologico debba andare a discapito di chi lavora, questo vale anche per i riders. Dico però, e mi dispiace dirlo, che difficilmente i tassisti possano essere la soluzione a questo dilemma, perché quelli sono parte in causa. A loro fa comodo lo status quo, sarebbe come chiedere a me se domani dobbiamo spegnere o no YouTube. È abbastanza chiaro da che parte mi schiederei. Un'altra cosa che si dice spesso è che allora bisognerebbe rimborsare i tassisti, che per comprare le licenze hanno dovuto spendere un sacco di soldi, spesso chiedere dei prestiti. Ed ecco, allora, premesso che questo è un problema che ha causato la politica, che ha dato ascolto ai tassisti, perché se si fossero continuate a diluire le licenze con nuove licenze, questo mercato secondario non sarebbe così folle, invece si è dato ascolto alla categoria e non ai consumatori, e sovolando anche sul fatto che rimborsando i tassisti verrebbe un po' meno il principio di rischio di impresa, e giustamente altri che hanno investito in altre cose andate male, potrebbero risentirsi, pare che il costo di una licenza ceduta privatamente si agili tra i 100 e i 200 mila euro, a seconda della grandezza della città. Diciamo quindi che come media e ribasso facciamo 150 mila euro a licenza, che moltiplicato per 40 mila, cioè il numero delle licenze, e sono sicuramente di più, significherebbe che tutti noi, per rimborsare ogni tassista in possesso di una licenza, spenderemo in tutto 6 miliardi di euro. 6 miliardi. Capite che è complesso. Ora, io non so cosa il governo deciderà di fare, anche se spero sia messo nella condizione di fare qualcosa, e ovviamente spero anche che si possa trovare una soluzione che non mandi i tassisti a gambe per aria, perché non ce l'ho con loro nello specifico, e il mio interesse è quello di avere un servizio migliore per il consumatore, per le città, per l'ambiente, diciamo, non per le multinazionali che non me ne frega niente. Ovviamente però nessun cambiamento è possibile se non si abbatte il muro dell'immobilismo, perché poi l'abbiamo visto, più le cose stanno ferme, più è difficile metterle in moto successivamente. Ed è più o meno tutto quello che ho da dire sulla questione dei tassisti. Non ce l'ho con loro, anzi sono solidale, però un cambiamento prima o poi deve arrivare. Sono passati molti anni. Ora, parliamo di Uber. Uber è un servizio di trasporto automobilistico in cui un'applicazione mette in contatto con un docente passeggero, rendendo estremamente semplice sia prenotare il viaggio in macchina, sia a tenere traccia in tempo reale della posizione dell'auto mentre arriva e anche il pagamento è tutto digitale, tutto molto bello, insomma. Ma se detta così, pari un servizio impeccabile, la realtà dei fatti è molto più controversa, un po' come ogni cosa, e l'azienda infatti è stata nel tempo molto criticata per il suo funzionamento, a partire dalle accuse di concorrenza sleale, ma se principalmente dai tassisti, che non reggono i prezzi competitivi dell'app, all'inquadramento professionale degli autisti, che sono tendenzialmente dei libri professionisti, ma che hanno espresso in vari casi il desiderio di essere invece dei dipendenti con regolare contratto. Ora, Uber è stata fondata a San Francisco nel 2009, ma la sua crescita esponenziale è avvenuta dal 2013 in poi, in particolare tra il 2015 e il 2016, quando a capo dell'azienda in quegli anni c'era proprio Kalanick, il personaggio di cui abbiamo accennato in editoriale, che aveva poi lasciato il ruolo nel 2017 a causa di accuse di aver instaurato un sistema poco etico su vari livelli. Tra le cose per capirci, pare avesse ignorato degli episodi di molestie sessuali all'interno della compagnia. E ora, per quanto possa sembrare incredibile, il leak di cui stiamo per parlare mette Kalanick e tutta la compagnia in una luce ancora peggiore, che credo potrebbe ulteriormente danneggiare il suo tentativo di rivoluzionare il settore dei trasporti. Vediamo un attimo. Il leak comprende 124.000 documenti confidenziali, tra cui mail, sms, messaggi whatsapp, eccetera, che fanno riferimento al quinquennio tra il 2013 e il 2017, cioè proprio il periodo in cui Kalanick era il vertice della compagnia, in cui, ovviamente senza filtri, come è normale quando si parla in via informale, l'ex CEO parla con il resto dell'esecutivo. Queste conversazioni fanno emergere delle dinamiche un po' poco etiche, se non un po' più illegali, politiche espansive molto aggressive, che per quanto noto in una certa misura, visto che di nuovo non è stato facile per Uber dover battagliare in ogni singola nazione con i lobby dei tassisti, le associazioni di categorie, eccetera, alle volte sembrano anche un po' troppo aggressive. E diciamo che per semplicità tutto questo lo dividiamo in tre punti. Il lobbying, la strumentalizzazione delle violenze ai tassisti e i metodi del tutto illegali utilizzati per non farsi rinfracciare dalle autorità. Tre cose. Quando vuoi rompere delle dinamiche politiche locali, e Uber lo sapeva bene, l'unica cosa che puoi fare per sopravvivere è cercare un appoggio politico, altrimenti non ce la fai. Ecco, dai documenti emerge che Uber avesse una politica di lobbying estremamente aggressiva che ha puntato ad entrare in relazione con personaggi politici di spicco in tutto il mondo per permettere la diffusione capillare dell'app. A volte senza risultati, ovviamente, ma in altri casi con successo. Ad esempio, pare che l'attuale cancelliere Olaf Scholz, ai tempi sindaco di Hamburgo, avesse rifiutato le richieste dei lobbisti, insistendo sul valore del salario minimo per i conducenti. E in similar maniera viene anche citato Matteo Renzi, allora presidente del Consiglio, che però, pur dopo un iniziale entusiasmo da parte di Uber, non sembra aver avuto particolari scambi con i lobbisti e infatti non si ricordano azioni del suo governo in tal senso. Ma diverso è il caso del presidente francese Macron, che è la figura politica di cui si sta parlando di più, perché l'allora ministro dell'economia francese, secondo il Leak, avrebbe incontrato spesso esponenti dell'azienda, costruendo un rapporto piuttosto stretto e diretto proprio con Kalanick e successivamente, a quanto pare, accettando di collaborare con lui per riformare le leggi del settore e allentando successivamente i requisiti per la licenza dei conducenti. Che, attenzione, non significa necessariamente che Macron sia stato pagato o indotto a fare cose che comunque non volesse già fare, noi questo non lo sappiamo. Però, insomma, possiamo dire che questi contatti ci sono stati e in Francia ovviamente non l'hanno presa benissimo. Già tra il 2015 e il 2016 c'erano state infatti diverse proteste in Francia, della categoria ovviamente dei tassisti, a riprova che un po' tutto il mondo è paese, proteste che in particolare nel 2016 erano degenerate e divenute violente, così come solo i manifestanti francesi sanno fare praticamente. Signore del fatto che già allora Macron non fosse popolarissimo tra i tassisti è la cosa, ora non potrà che andare peggiorando e confermando le loro accuse di essere in qualche modo in combutta con la multinazionale. Fate conto che anche in Italia, Spagna e Belgio c'erano state delle manifestazioni contro il servizio in quel periodo, era proprio il momento di espansione di Uber, ma in Francia hanno dato proprio il meglio, perché ad esempio a Lille un conducente di Uber era stato picchiato dai tassisti e altri episodi simili erano stati a Tolosa, Marsiglia e un sacco di città, tra violenze fisiche e macchine distrutte. E qui arriviamo al secondo punto, cioè la strumentalizzazione di queste violenze. Una seconda cosa che gli Uber Files hanno messo in luce è che proprio in quell'occasione Kalanick avrebbe strumentalizzato l'evento delle aggressioni nei confronti dei suoi autisti, ritenendo che la violenza dei tassisti potesse giocare a favore di Uber e addirittura ordinando ai dirigenti francesi di incoraggiare i conducenti a organizzare delle controproteste, da dove ce ne fossero ovviamente di organizzate dai tassisti, proprio nella speranza che da questo nascessero delle violenze, e che le violenze avrebbero alimentato la controversia e giovato alla causa dell'azienda. Parliamoci chiaro infatti, questa strategia, per quanto poco etica, ma tanto a prendere le botte sono gli altri, ha ovviamente senso, dato che una narrazione è quella che contrapone la multinazionale malvagia che toglie il lavoro ai poveri tassisti, mentre un'altra narrazione migliore dal suo punto di vista è quella di una categoria che aggredisce un'altra categoria. E questa differenza, Kanik, sembrava comprenderla piuttosto bene. Sulla questione dell'illegalità c'è poi il fatto che lo staff di Uber fosse perfettamente conscio dell'illegalità appunto in cui operava in svariati contesti, perché come abbiamo detto, Uber è arrivata con il tentativo di rompere degli ingranaggi presenti da anni, anche con la forza, sembra di capire, con il management che si definiva alle volte un gruppo di pirati, o rimarcava come fosse normale che l'accompagnavasse dei problemi, essendo, cito testualmente, fottutamente illegale, fucking illegal. Ora, anche qui, per quanto io sia generalmente un po' cauto quando si devono giudicare conversazioni interne, che spesso tendono ad essere un po' libere, no? Perché è normale che sia così ed è il famoso discorso della persona che trova il tuo telefono e leggere le tue conversazioni con i tuoi amici, che non saranno proprio delle note ufficiali del culinale, ma è anche importante stollineare come in quel periodo la posizione ufficiale della compagnia faccia se leva sul fatto che ci fosse un vuoto normativo e in questo loro si infilassero, ma non ci fosse nulla di fottutamente illegale, insomma. Però internamente non la pensavano proprio così. Nel frattempo, però, in tantissimi paesi, le autorità, soprattutto all'inizio, avevano cercato in tutti i modi di contrastare il fenomeno, tanto che in alcune città i poliziotti scaricavano l'app e prenotavano dei viaggi Uber per poi multare i conducenti e confiscare le auto, proprio perché questi operavano senza licenza. Ed è a questo proposito che emerge il terzo aspetto, il cosiddetto kill switch, che sembra si trattasse, questo, di un sistema messo in piedi da Uber che prevedeva che, nel caso in cui un ufficio venisse per acquisito dalla polizia, i dirigenti della compagnia potessero tagliare l'accesso dell'ufficio alla banca dati principale dell'azienda stessa, in modo che la polizia non potesse raccogliere delle prove. Questi sono quindi, in definitiva, gli Uber files di cui tutti parlano oggi, ma manca una cosa. Cioè, come ha reagito Uber, che è ancora attiva in moltissimi paesi, a tutto questo. Ed è interessante. Tenete conto che, a capo dell'azienda, in quegli anni c'era Kalanick, e questo ha permesso agli attuali dirigenti di smarcarsi in qualche modo da tutta la vicenda. La portavoce Jill Hazelbaker ha, ad esempio, sottolineato come le cose siano molto cambiate da quando l'amministratore delegata è stato sostituito, lasciando spazio a delle politiche sia molto più rispettose della legge, sia della categoria dei tassisti, e quindi si è addirittura rifiutata, a nome della compagnia, di fare delle pubbliche scuse, chiedendo al pubblico di giudicare l'azienda non per le scelte passate, prese da persone che sono state o rimosse, o comunque hanno perso i loro incarichi, ma per quelle presenti, che rappresentano in modo più appropriato gli attuali valori. Non la commento questa cosa. Fatelo voi, vi leggo in descrizione, dobbiamo parlare di Cina. Facciamo il punto su una situazione che si sta verificando da qualche tempo in Cina e che coinvolge una serie di proteste organizzate da alcuni risparmiatori che hanno visto i loro conti bloccati da alcune banche provinciali e che sono dunque impossibilitati a ritirare i loro risparmi, a causa del fatto che proprio queste banche sembrerebbero essere coinvolte in delle truffe di tipo finanziario che riguardano quegli stessi fondi in cui i risparmiatori sono stati portati ad investire. Quindi investi qui, puff, e poi i problemi. Ora, la questione va avanti da un po', e la notizia non è legata tanto alla natura stessa della truffa, che è un po' tecnica e sono quelle cose che capitano in tutto il mondo, no? Il risparmiatore è imbrogliato, si lamenta, eccetera, ma al modo in cui le autorità cinesi hanno scelto di bloccare le proteste di queste persone che sono ovviamente arrabbiate. Quindi, cosa è successo? I problemi sono iniziati ad aprile, quando quattro banche della provincia di Henan hanno bloccato i prelievi in contante dai loro conti. Per quanto specifichiamolo subito, è un problema molto diffuso, a quanto pare, e il motivo è che ci sono state delle collusioni interne con uno degli azionisti di maggioranza di queste banche, che non solo ha gestito degli investimenti in maniera illegale, sto semplificando un po', ma è persino accusato di aver reindirizzato il denaro dei risparmiatori verso attività criminose. E questo non secondo i giornalisti, ma proprio stando alla versione fornita dalla polizia locale e poi ripresa da analisi successive. Ora, la questione è anche più complicata di così, sapete dove sono le fonti nel caso vi foste incuriositi, ma quello che ci serve sapere è che il denaro contenuto in questi fondi è al momento inaccessibile ed è appunto legato ad attività criminali, il governo lo considera legato ad attività criminali, quindi non si può toccare e la gente si è arrabbiata. Che ti arrabbi è anche ovvio, se vogliamo, perché la cosa è ovviamente un problemone per chi in quelle banche magari ha messo i risparmi di una vita. E se allarghiamo lo sguardo a tutta la Cina, parliamo di centinaia di migliaia di persone i cui conti sono inaccessibili. Questo è un problema talmente sentito che i risparmiatori si erano persino spinti a organizzare una prima protesta a maggio, fuori dagli edifici dell'ente regolatore delle banche a Zhengzhou, cioè la capitale della provincia di Henan. E ovviamente per gli standard della Cina, vedere la popolazione protestare, con tutti i rischi che questa cosa può portare, dovrebbe essere un'indicazione di quanto la problematica fosse sentita. Ma quella protesta in particolare era stata velocemente dispersa dalla polizia. Quella. Il mese scorso, infatti, si sarebbe dovuta tenere un'altra protesta a Zhengzhou, che però non è mai avvenuta. E il motivo è che le persone che avrebbero dovuto parteciparvi sono state bloccate ancora prima che questa iniziasse. E per spiegare come sia possibile dobbiamo quindi aprire una brevissima parentesi per spiegare in che modo la Cina gestisce la documentazione sanitaria legata alla pandemia. E guardate, lo so, metto le mani avanti. Qui succede un casino, perché sto mostrando il fianco a tutti i no pass nostrani. Me ne rendo conto, lo accetto, va benissimo. Andiamo avanti. Il cosiddetto green pass cinese è in realtà un po' diverso dal nostro. A ogni persona ha infatti assegnato un QR code personale, il cui colore determina la libertà di movimento. Se sei verde, ti puoi spostare liberamente. Giallo rosso iniziano le restrizioni, che vanno banalmente dalla quarantena, a casi particolari in cui il sistema è stato utilizzato per svolgere anche altre funzioni, come ad esempio tracciare i test covid dei cittadini nel periodo delle Olimpiadi. La cosa interessante è che se vi steste chiedendo sulla base di quali criteri, quindi il codice appaia di un colore rispetto a un altro, non si ha una risposta, non è chiaro. E già all'inizio della sua implementazione, il New York Times faceva notare come il sistema non solo non fosse affatto trasparente, ma venisse utilizzato anche per andare oltre il tracciamento sanitario, dato che per determinare i contatti con eventuali contagiati e la permanenza in eventuali zone di focolaio, venivano tracciati anche i dati sulla posizione e venivano poi condivisi sulla polizia. Quindi io ti mostro il mio QR code, tu bip, lo scannerizzi e automaticamente vieni geolocalizzato. Ed è qui che torniamo a Zhengzhou. Quando i detentori dei conti in quelle banche, e solo loro, attenzione, sono arrivati alla stazione di Zhengzhou, hanno a quanto pare visto mutare il loro QR code verso il rosso, cosa che non solo ha impedito loro di proseguire nella protesta, ma li ha anche costretti a passare la notte in quarantena, prima di essere scortati di nuovo alla stazione della polizia il giorno dopo e poi rispediti indietro, per vedere il loro certificato arrivati a casa diventare nuovamente verde. Ora, a voler essere maliziosi, la deduzione è un po' scontata. Il governo ha utilizzato il sistema di codici per determinare chi potesse andare dove e quando. È considerata la quantità di informazioni registrate e trasmesse, diciamo che è plausibile supporre che non sia stato difficilissimo individuare quegli specifici risparmiatori che non dovevano andare in gita a quel momento, per paura che potessero protestare, e beccarli. Anche se comunque, chi l'avrebbe mai detto, il governo locale non ha confermato che le cose stiano così. Contate infatti che, nonostante tutto, gli sforzi dei risparmiatori per protestare non si sono ridotti, anzi, si sono intensificati e questa domenica si è svolta una nuova manifestazione, sempre a Zhengzhou, alla sede locale della Banca Centrale, con le persone che stavolta si sono mosse di notte, organizzando la protesta ancora prima dell'alba, per ridurre il rischio di essere intercettati. E la cosa che ho trovato affascinante è che, nonostante stessero protestando per i loro risparmi e nonostante lo stessero facendo tra mille difficoltà che palesemente erano messe su dal governo, abbiano fatto di tutto per presentarsi non come persone che protestavano contro il governo centrale, ma contro quello locale, contro il quale cercavano appoggio e supporto da Pechino, sventolando in alcuni casi la bandiera nazionale, proprio a riprova del fatto che non ce l'avessero con il governo. No, 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 signora mia, ce l'abbiamo con la banca e con il governo locale, che è una cosa totalmente diversa, ma rimaniamo nazionalisti. Ha funzionato? No. La protesta è infatti degenerata, la polizia ha caricato le circa mille persone che si erano radunate sulle scale della banca, quindi tantissime per gli standard cinesi, e tutto si è concluso con lancio di oggetti e pestaggi da parte della polizia, quindi i classiconi. Tanto più che dobbiamo ricordarci che a breve, in autunno, il leader del paese Xi Jinping sarà impegnato nella conferma del suo terzo mandato, e ovviamente proteste di questo tipo rappresentano un forte imbarazzo per la sua leadership, che è sempre raccontata dal partito come illuminata e incontestabile. Di conseguenza, raccontano gli osservatori esperti, lo stesso governo pone massima pressione sui governi locali affinché blocchino e impediscono a tutti i costi le proteste, specie dopo quelle avvenute a causa Covid, ve le ricorderete senz'altro. Ma insomma, è una notizia che un po' può farci pensare di riflesso ai vari aspetti del nostro vivere e di come noi abbiamo gestito alcuni passaggi, dalle polemiche per i vaccini, al tracciamento, al green pass, ad ancora ovviamente la gestione di grossi crack finanziari e bancari, che non sono un unicum di nessuna nazione, sembra di capire. O meglio, non lo sono, ma è il modo con il quale i governi gestiscono tutto quanto che puoi fare differenze. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Vi ricordo che Breaking Italy è un lavoro collegiale di tante persone che mettono un sacco di roba assieme e poi io taglio via tutto per cercare di condensare le cose, rendere le più possibili e digeribili. Quindi, le fonti sono in descrizione, perché ogni tanto ovviamente qualcosina la dobbiamo semplificare. Molto importante! Per il resto, grazie a tutti quelli che ci sostengono, soprattutto tramite il club, Breaking Italy.club, se voleste darci una mano, per noi fa la differenza. Quindi, grazie a chi l'ha già fatto, se voleste salire sulla nave, sul galeone, sulla barca, se voleste salire su questa zat, su questa breakingitaly.club. Fate i bravi, ci vediamo domani. E le brave, lo devo... i bravi... smetto di parlare.